buongiorno da btv news oggi 7 novembre san prosdocimo di padova il 7 novembre ricorre la giornata mondiale di consapevolezza dello stress istituita dalla londinese international stress management association per sensibilizzare su quelli che sono i rischi dell'eccesso di stress tanto da essere definito come il mare del ventunesimo secolo dall'organizzazione mondiale della sanità si pensa che secondo le ricerche solo in italia ne soffrono 9 persone su 10 le cause dello stress possono essere tante in generale però si può dire che la reazione del nostro corpo a una situazione conflittuale esterna nella ricerca di un nuovo equilibrio interiore anche se le cause non sono sempre chiare esistono però diversi metodi per alleviare i sintomi dello stress a partire ad esempio da una moderata attività fisica che ci regala endorfine benefiche per il nostro umore così ma in particolare tecniche di respirazione e rilassamento mentale e muscolare quindi quindi Grazie a tutti.